Ciao a tutti, sono Andrea Perini, lo chef del ristorante A588 di Firenze. La mia cucina nasce dalla mia passione per l'olio, che è parte integrante di ogni mio piatto. Pane, olio e pomodoro è il ricordo della mia infanzia, reinterpretato secondo la mia idea di cucina. Su una crema di pane arrosto che accompagna tutto il percorso, si ritrovano pane, olio e pomodoro in diverse consistenze, dalla gelatina all'aria fino all'acqua. A588 è all'interno del relais Borgo e Vicelli, a pochi chilometri dal centro di Firenze, sulle colline toscane. Questo ci permette di avere, a due passi dalla cucina, il nostro orto biologico, che è anche il cuore pulsante della nostra cucina. A588 è un ristorante giovane, sia all'anagrafe che nel suo staff. In cucina, il mio braccio destro è Lorenzo. In sala, c'è Giacomo, il metro, accompagnato da Giulia, la manager e proprietaria. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottieni. Grazie a tutti.